benvenuti o bentornati nel canale giornata cupa in toscana e mi avevano proposto inizio subito di provare questa maschera questo visore per volare fpv con il drone ma vuoi per il costo un po elevato voi perché la modalità fpv per il mini 2 non era proprio ben funzionante avevo decisamente declinato l'invito a differenza di altri colleghi di piattaforma che lo avevano raccontato e il sottoscritto aveva già video di questo genere avevo evitato io lo sapete come si dice in toscana sono un cane sciolto io vado d'impeto e quello che sento dentro di me faccio giusto sbagliato sono fatto così ora però sto provando la mask la mask è di david lui l'ha comprata e con l'ultimo aggiornamento firmware del mini 2 sulla modifica del gimbal fpv ora non potevo testarla era impossibile non testarla e vi dico già da adesso ovviamente l'ho già provata non stavo nella pelle e qui con me c'è la fede ciao fede fate sentire è una figata pazzesca e ve la devo raccontare per forza perché ma totalmente affascinato vai come al solito vi chiedo un bel like se volete a me farebbe davvero tantissimo piacere se poi non siete iscritti al canale spero che possiate iscrivervi come vi dico ogni volta intanto diciamo che cos'è lei che cos'è magic mask magic mask è una maschera per volare con un drone e si è fatto le scoperte e la guarda un pensiero e lo so e niente lui ci permette il volo nel famoso first person view sentite come l'ho detto bene insomma in parole povere si vola in prima persona è ovvio basta inserire il telefono e la maschera c'è una cernieretta qui eccola qui il tutto è fatto con un cavo tipo usb tipo c e con un piccolo cavo usb tipo c femmina eccolo io vi metto il link in descrizione dove ci attacchiamo appunto il classico cavo di ricarica dello smartphone e lo andiamo a mettere nel radiocomando tutto qui il magic mask ha una lente brevettata che proietta l'immagine completa del telefono su ciascun occhio in modo che si ottenga una risoluzione maggiore rispetto a quella che si avrebbe se si dividesse in due l'immagine del telefono e si inviasse un'immagine a ciascun occhio ovviamente originariamente questo visore era destinato alla visione di film cioè loro l'hanno l'hanno fatto l'hanno partorito concedetemi in termine per questo ma poi hanno scoperto che molti piloti di droni erano interessati a usarlo appunto con i loro oggetti volanti eccoli qui con loro e niente e allora che dire utilizzando questo il prodotto come maschera fpv poteva essere una cosa interessante proprio per questo loro hanno iniziato a divulgarla per usarla con i droni o io l'ho provata usando anche sul divano è però l'ho già provata per vedere un film su amazon prime è una goduria è una è una goduria assoluta io con questo tipo di maschere ve lo ricordo sono stato un pioniere esatto avevo portato un video di questa cosa qua nel canale con il mavic mini vi linko qua sopra nelle schede il video di un anno e mezzo fa e purtroppo questo visore non si trovava più era aveva avuto interesse di un sacco di persone ma l'hanno finiti e non si trovano più ma lui è veramente lo devo dire molto molto più performante e ha un diverso funzionamento rispetto a quello ma come funziona lui ve lo spiego alla bichinette come vi ho detto si mette lo smartphone qua dentro nel coperchio si attacca lo smartphone alla radio con il cavo si avvia la app di gifly si chiude il coperchio si indossa si fa decolle a lui è tutto qui e ci si diverte a bestia più il telefono è grande più l'esperienza sarà migliore ovviamente lei è compatibile con la maggior parte dei telefoni che sono più larghi di 78,1 millimetri in pratica ho schermi fino a 6,2 pollici esatto c'entra un bel po di roba ora ci faccio un bel volo ovviamente la fede mi assiste perché vi ricordo che non è possibile volare con un visore con il drone senza avere accanto un osservatore che vi dia delle indicazioni andiamo cioè siamo proprio fuori regole io vengo sempre a volare da solo ma per fare questi test ovviamente devo portare qualcuno e la fede di rompo le palle è venuta scusa ai francesi oggi vogliamo con il mini 2 aggiornato nel firmware 1.03.00 che come abbiamo già visto migliora davvero tantissimo l'esperienza di volo e cosa fa ci consente nell'impostazione del gimbal su fpv di ottenere veramente un'esperienza migliorata bestia a questo punto il mini 2 con lei diventa davvero un drone da volo in prima persona e dovevo per forza provarla ovvia ora volo e poi vi racconto l'emozione che ho provato perché mi sembra il minimo vai a questo punto è un'esperienza migliorata da volo e poi vi racconto l'emozione che ho provato un'esperienza migliorata da volo e poi vi racconto l'emozione che ho provato maremma impestata bellissimo ovviamente è uno posso paragonare ai google v2 che sono pazzeschi certo e poi arriverà un contributo e vedrete appunto ora fra poco su questa cosa ma non avrei mai creduto di provare tutto ciò con il mini 2 esatto e su questo vi porto appunto la testimonianza che vi stavo dicendo proprio di davide che ha provato i miei google v2 con il mio dj fpv e lui si adatta agli occhiali e questo visore si adatta alla vostra vista in modo perfetto basta muovere questo distanziatore qui vedete c'è questa distanza c'è questo distanziatore e si adatta anche agli occhiali sentite cosa ci dice david ulivelli amico possessore del canale youtube omonimo ed ecco lui ovviamente mi ha prestato la sua mask ovvero questa per per divertirmi ci è come se mi ci diverto davide dicci un po' questa cosa mi ha abbastanza interessato ciao simo allora per quanto riguarda la mia personale esperienza con questi visori devo dirti che mettendoli a paragone dei visori che mi hai fatto provare i visori google della dj ai del dj fpv drone devo dire che sicuramente sono superiori la tecnologia è un'altra tecnologia quella dei visori dj ai però c'è un però io ho un piccolo problema di vista o un'ipermetropia di 23 decimi circa e con i google dj ai non riesco a mettere esattamente a fuoco l'immagine cosa che riesco a fare con la maschera magi mask infatti riesco a regolare la distanza tra la lente e lo smartphone in questo modo riesco a mettere esattamente a fuoco non so come mai dj ai non abbia questa funzione non me lo chiedere però è così e niente ci si sente ciao simo grazie david e credo sia stato importante portare questa tua testimonianza per far capire a tutti questa cosa davvero davvero interessante finisco dicendovi attenzione questo non è un visore di realtà virtuale ovvero non è un occhiale vr quello che sdoppia quelli che offre un'esperienza 3d per intendersi magic mask offre un'esperienza cinematografica 2d esatto infatti ricordatevi che per far funzionare gli occhiali vr lo schermo dello smartphone deve essere diviso a metà deve avere due due uno per occhio di immagini e per questo che la dj fly non funziona perché non ha questa funzione per intenderci e dunque con tutti i classici occhiali vr occorrono delle app speciali che ci consentono di fare questa cosa e anche se vogliamo vedere un film e dei filmati che poi saranno a bassa risoluzione questo visore utilizza una soluzione ottica però diversa il che significa che non divide lo schermo ma ci dà un'immagine unica e offre una soluzione straordinaria usando qualsiasi app e anche guardando video youtube ma come vi ho detto film su amazon prime netflix replay eccetera qualunque cosa infatti ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto ai tradizionali visori vr e in volo si vede tutta e e questo perché ha delle lenti e consentono di utilizzare l'intero schermo invece come detto di dividere le immagini una per occhio e ovviamente la differenza sta tutta qua va bene intanto ringrazio david di avermi fatto provare questo oggetto guardate un oggetto non c'è un box in cui non c'è nulla ovviamente ve lo può vedere l'ho provato e sono estasiato e lo ringrazio appunto davide e che dire mi ha fatto davvero ricredere su questo prodotto sul quale ero molto scetti come vi ho detto e invece direi che costa abbastanza ma è fantastico e me lo prendo pure io a questo punto perché andrò a usarlo per mille cose ovviamente io vi lascio il link qua sotto in descrizione se lo volete acquistare mi sembra almeno vi lascio anche il cavetto che servono qua giù insomma per attaccarlo al vostro radicomando lui mi ha detto 9 giorni dall'ordine gli è arrivato ne stanno vendendo un botto perché è proprio così e abbiamo appena guardato un davide quando ci siamo sentiti il prossimo lotto lo spediranno a luglio pensate che successo hanno avuto non mi ha disturbato nessuno tira un po' di vento ma non aspettalo c'è qualche moscerino non so se ve lo vedete ma l'ho ne meccati un abbraccio dalla campagna toscana con un oggetto che sono stato un brodo perché è davvero uno spettacolo ciao alla prossima perché alla prossima aspettatevi un gran confronto tra due droni fpv lui e l'altro dunque rimanete sintonizzati perché quello sarà il video dei video ciao ragazzi ciao 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 ciao